Continua il gran caldo sulla nostra regione, l'anticiclone che dall'Africa si stende sull'Europa porta ancora masse d'aria molto calde, ma in questo momento le correnti anche per sabato e domenica saranno in prevalenza da nord-est, questo significherà aria un po' più secca. Quindi avremo una bella giornata, sabato con cielo sereno su tutte le zone, appena qualche modesta formazione nuvolosa al pomeriggio in montagna, la possibilità di qualche isolato locale temporale sui monti è molto bassa, ma non è comunque del tutto esclusa. Temperature di nuovo in lieve ripresa, massime in pianura intorno ai 35-36 gradi, intorno ai 33-34 sulla costa con un po' di borino al mattino in giornata 20 di brezza e atmosfera un po' più secca, quindi un caldo più sopportabile. Condizioni simili anche per domenica, un cielo in prevalenza sereno al mattino su tutte le zone, al pomeriggio qualche nuvola in più in montagna, dove sarà possibile qualche temporale, anche questo in maniera un po' sporadica. Per quanto riguarda le temperature, situazione simile, caldo ancora abbastanza secco, con venti a regime di brezza. L'inizio della prossima settimana vedrà un po' più di umidità, già lunedì avremo maggiore nuvolosità al pomeriggio in montagna, sempre un cielo sereno o poco nuvoloso su bassa pianura e costa, saranno possibili nel pomeriggio in serata dei locali temporali, situazione simile anche martedì con atmosfera più affosa, quindi il caldo pur riducendosi la temperatura di qualche grado, martedì probabilmente diverrà più affoso per l'aumento dell'umidità. Buon fine settimana a tutti!